Ma è un concerto rock, cioè è una cosa meravigliosa, due miliardi di persone, cioè è un interesse per la parola scritta straordinario, mi auguro che sia un interesse sincero e concreto, ma lo credo, ecco perché devo dire è confortante, veramente confortante, bellissimo. L'affetto del pubblico arriva, anche perché dopo 30 anni di bagianate per radio o ti linciano o ormai ti tollerano, diciamo che ormai ci tollerano e questo è positivo, siamo contenti.